Dopo il grandissimo successo della tournée estiva in cui siete andati in scena in diversi luoghi delle Marche, tornate all'Arena BCC. E torniamo, sì. Sì, e torniamo. Luglio, agosto, ma anche a settembre, per l'ultimo spettacolo della stagione estiva, dopo le varie serate in varie località delle Marche, con Somari di Battaglia, Arena BCC alle 21.15, venerdì 8 settembre. Ci saranno vari ospiti, Rosa della Cecca, Orieta Pedotti, tutti i classici e anche dei nuovi e anche Mirko Ioni. Esatto, mi raccomando, allora, quella sera, venerdì 8, se non buletta e spreca 15 euro, avete stipulati, inauguro il mio nuovo ferramenta a Marzocca, Propolotto. È una cosa fantastica. Allora, con un martellò, quattro chiodi, vi regaliamo pure i braccioli per le creature. Ma dove? Solo è il giorno dell'inaugurazione. Ma la ferramenta e i braccioli? Mi raccomando, Marzocca, voi uscite da Fano, piate la Littorana, c'è Marotta, Senigana. Poi, invece, chi ha ruccia, c'è l'Arena BCC, ma chi ha Marzocca a ferramenta? Mi raccomando, ma no, il caso mai, il giorno dopo, ma poi, ma qua, dove sta ferramenta? Mi raccomando, è una cosa, è come il partenò, voi appena la vedete, a bocca aperta, rimanete. Arena BCC, 21.15, venerdì 8 settembre. Ferramenta, Mirko e Checo Ioni, mio padre è Checo, siamo padre e figlio, Mirko e Checo Ioni. Voi state alla ferramenta e noi vi aspettiamo all'Arena BCC. Dai, dai, dai. Martello, quattro chiodi, 20 euro. E i braccioli. 20 euro vedo i braccioli. Arena BCC.